Il disegno è il mio lavoro Vi è mai capitato di dover imparare a far qualcosa? E di dover rimparare a farlo? Pensateci. A me è successo l'anno scorso ed ho dovuto rimparare a disegnare. Questo per me è stato un problema, perché il disegno è il mio lavoro. Io creo ambientazioni immaginarie. Io sono una concept artist, anche se la maggior parte della gente non ha la più pallida idea di cosa sia la concept art. Provate ad immaginare a un videogioco, un film di fantascienza, al Signore degli anelli o al trono di spade. Ambientazioni, architetture, paesaggi, tutto ciò che non esiste nella realtà qualcuno dovrà prima pensarlo e poi disegnarlo. E poi qualcun altro si occuperà di farlo in 3D. Ecco, io sono quella persona che pensa e disegna. La maggior parte del mio lavoro è creare quelle che in gergo si chiamano thumbnails, miniature. Sono delle vere e proprie esplorazioni. Infatti esplorano come la luce, se è epica oppure soffusa, dove sono posizionate le camere, quali sono le lenti focali, com'è e dov'è questo paesaggio. Bisogna essere molto veloci nel farle, perché spesso se ne presentano parecchie, giusto per non lasciare niente di intentato. Una volta scelta quella vincente, la si porta avanti e la si dettaglia sempre di più per renderla pronta per la produzione finale. Ci vogliono anni per imparare a fare questo mestiere e anni per, insomma, allenare la mano a fare una serie di gesti e movimenti. Ma come vi dicevo prima, ho dovuto rimparare a fare tutto ciò. Torniamo per un minuto nel 2019. Ero a grigliare con amici, quando ancora lo si poteva fare, e appunto in quel momento ho iniziato a sentire uno strano fastidio al braccio e ho passato tutto il giorno a muovermi la maglia, credendo che fosse quella a darmi fastidio. Però il giorno dopo è arrivato uno strano intorpidimento alle gambe e poi non l'ho più sentita. Chiaramente sono andata in panico e quindi ho subito contattato un medico che mi ha prescritto una risonanza magnetica e dopo 20 giorni ho avuto il referto. Sclerosi multipla. È una malattia cronica, neurodegenerativa e non c'è cura. Sclerosi multipla. Provate ad immaginare a un cava elettrico con la sua bella guaina di gomma, che è la mielina, che è la guaina delle fibre nervose. A un certo punto il mio sistema immunitario decide di impazzire, di attaccare questa mielina è di lasciare le fibre nervose scoperte in alcuni punti. E così, come succede per il cavo elettrico, se non c'è più protezione, il sistema nervoso centrale fa fatica a diffondersi, dando una serie di sintomi diversi da persona a persona e talvolta anche invalidanti. Dopo la diagnosi, sinceramente, non mi è crollato il mondo addosso. Ma di certo sono atterrata su un altro pianeta. Anzi, sono entrata in quello che io chiamo il multiverso, un universo parallelo, completamente diverso da quello che conoscevo. Ma nella realtà, pensate che 188 persone su 100.000 ogni anno in Italia vengono diagnosticati di sclerosi multipla. Beh, per me è stato assolutamente come vincere il biglietto della lotteria del multiverso della sfiga. E, a proposito di sfiga, dopo sei mesi ho avuto un'altra brutta ricaduta che ha colpito proprio quella, la mia mano dominante, l'unico strumento di lavoro, per un lavoro che tra l'altro io amo moltissimo fare. La mia mano aveva totalmente perso sensibilità. Avevo la forza, ma non avevo il grip, l'aderenza, insomma. E qualsiasi cosa che provavo a prendere in mano, quella scivolava da tutte le parti. Un'altra cosa molto strana stava succedendo. Non riuscivo a capire la posizione delle mie dita nello spazio. È assurdo da spiegare. Ma mentre io guardavo la mia mano a palma aperto, e cavolo, la vedevo che era a palma aperto, l'informazione che arrivava alla mia mente è che le dita fossero chiuse e accavallate l'una alle altre. Io non riuscivo nemmeno a capire se la mia mano era appoggiata a qualcosa oppure no. Provate per un secondo ad immaginarvi di andare a dormire, vi addormentate sopra la vostra mano, di svegliarvi e di non sentirla più. Dopo pochi minuti che la muovete, questa torna a funzionare. Ecco, a me non è successo. In quel momento avevo tre diversi clienti, un sacco di deadline, un sacco di lavoro e un sacco di responsabilità. E ho capito con quello che mi era successo che avevo solo due strade, soltanto due. La prima era dire a tutti i miei clienti non consegnare e mandare a quel paese la mia carriera. Il secondo invece era seguire la mia testardaggine e vedere se c'era una soluzione a questo problema. Così ho messo a punto degli esperimenti, chiamiamoli creativi. Il primo è stato legarmi le dita tra di loro con un semplice elastico per provare a tenerla in posizione. E poi ho provato ad afferrare la mano. Quella scivolava da tutte le parti. Il secondo, un pochino più drastico, anche perché il tempo stringeva, mi sono scocciata la penna direttamente alla mano con un nastro adesivo. Così rimaneva bella, ferma, in posizione. Una delle prime cose che si imparano nel mio lavoro è che il movimento del disegno viene dalla spalla, quindi top. Quella funzionava alla grande. Ho rischiato di bucare la tavoletta grafica perché non riuscivo ovviamente a dosare la mia forza. Avevo perso tutte le idee, non sapevo più che cosa fare. Ero disperata e i clienti continuavano a mandarmi email perché volevano risultati, chiaramente. E quindi che cosa fare? Internet. Ho trovato questo metodo un pochino complesso. Sempre con una penna scocciata alla mano, ne ho preso un'altra nell'altra mano. Ne avevo due. E l'ho connessa con un semplice spago da cucina, più o meno a questa distanza. E ho utilizzato la mano non dominante per trascinare la mano che non funzionava più. Come potete ben capire, questo è stato il più grande fallimento. Ovviamente non è servito a un tubo. Però mi ha insegnato una cosa molto, molto importante. Io ho due mani. Quindi perché non provare ad utilizzare l'altra? Beh, io avevo molta paura. Soprattutto la paura di fallire perché so che ci vogliono dei quattro mesi in su con la mano non dominante per riuscire più o meno a scrivere in modo leggibile. E io di certo non avevo tutto quel tempo. Però sono una persona testarda e quindi ci ho provato lo stesso. Ho preso il mio bel quaderno e ho iniziato a riempirlo di lettere dell'alfabeto. A, B, C, D. Dopo pochi minuti i risultati erano agghiaccianti. Ma dopo qualche ora, insomma, riuscivo a scrivere bene. Top! Peccato che io dovevo disegnare e non scrivere. E quindi niente. Ho lasciato cadere le mie paranoie, le mie paure. Non avevo assolutamente altre alternative. E quindi l'ho fatto. Ci ho provato. E ho provato a disegnare con la mano non dominante la mia sinistra. I risultati sono stati incredibili. Sono riusciti a disegnare molto meglio che a scrivere. E mi sono resa conto che mi stavo appoggiando alla magica neuroplasticità. Praticamente il mio cervello, in condizioni totalmente diverse, cercava di apprendere in modo veloce. Questo non sta a significare che, insomma, stava riparando qualcosa che non funzionava più, ma che, insomma, cercava delle strade diverse per superare l'ostacolo. I risultati sono stati buoni, però chiaramente non sono stati perfetti. Ero più lenta, ero più imprecisa. Però sono riuscita a consegnare. E i miei clienti non si sono accorti di nulla. Ok, probabilmente se ne accorgeranno adesso mentre sto parlando. Però diciamo che è andata tutto bene. Ce l'ho fatta. Adesso che la mia mano, fortunatamente, perché non è scontato, è tornata a funzionare, alleno sempre l'altra mano facendo le parole crociate e i disegnini mentre sono al telefono. Ma chiaramente tutto il resto delle cose le faccio con la mia mano dominante. Però so che quando un'altra ricaduta arriverà, perché arriverà, io avrò gli strumenti per poterla affrontare. E anche per continuare a produrre arte e, perché no, per continuare a sentirmi normale. Dopo questa esperienza ho voluto andare oltre e provare a raccontare i sintomi invisibili di questa patologia. Un gran fraintendimento della sclerosi multipla è credere che se una persona, dopo poco tempo dalla diagnosi, non finisca su una sedia a rotelle, significa che, insomma, la patologia non sia poi così grave. Stai bene, stai in piedi, cammini, fai tutto, va tutto bene. Io direi tutto bene un corno, perché uno prova anche dentro una serie di sintomi, anche molto invalidanti. Provate per un momento a pensare alla perdita della vista per lungo periodo, oppure alla perdita dell'equilibrio costante. O, non lo so, alla perdita della sensibilità che non vi fa fare le cose quotidiane. Ecco, questi sono sintomi invisibili e non hanno un linguaggio che non sia il linguaggio degli ospedali, dei plichi alti così dei referti medici, oppure quello di Google. E ho voluto, appunto, crearne uno diverso. E l'ho fatto con quello che so fare, il disegno. Ho creato nove concept, e spero che potranno essere di più, su nove sintomi differenti. Giusto, appunto, per renderli visivi. Gli ho fatti che possano essere non troppo cupi e non sono figurativi, quindi non rappresentano persone che provano i sintomi, ma sono delle metafore con dei paesaggi. Questo, per esempio, rappresenta la mia insensibilità, ed è quindi una città distopica, con, in fondo, una statua assolutamente fuori scala, voluto, e sorretta da delle catene, che sta proprio a significare la difficoltà di movimento. Oppure un'altra metafora che ho utilizzato è la foresta. Questa è la rappresentazione della mia mielina, di quello che, in questo momento, sta succedendo al mio sistema nervoso centrale, proprio adesso, mentre vi sto parlando. Quello che vorrei chiedervi è, se avete avuto dei problemi, o se avete dei problemi che siano piccoli o grandi come i miei, provate ad andare oltre, provate a, perché no, a sbatterci la testa, perché no, ad inventare dei nuovi esperimenti creativi. Non lasciate perdere, mai. Non fate che questi problemi possano limitare le cose che voi amate fare. E se invece avete dei talenti, utilizzateli. Se avete dei talenti, ad esempio io ho usato il disegno, ma se avete dei talenti diversi, e sicuramente li avrete, perché non li mettete al servizio delle altre persone, per fare qualcosa di diverso? Quindi non importa con quale tempo, con quali talenti, non importa, insomma, le vostre capacità. L'importante è che voi ci proviate. Quindi proviamoci. Grazie. Grazie.